Buongiorno a tutti e bentrovati. Come di conseto anche oggi andremo a scoprire uno dei tanti titoli che il nostro potente software ha trovato e filtrato per noi. Tutto questo grazie al complesso calcolo effettuato dall'intelligenza artificiale applicata all'analisi intermarket, che grazie ai suoi indicatori predittivi ci permette di anticipare il mercato e offrire quindi grandi opportunità di entrare in un trade vincente e profittevole. Andiamo quindi al titolo preso in considerazione oggi che è CapState Mortgage con il ticker CMO. Come ben si può notare si è creato un segnale anticipatore dato dall'incrocio della media mobile predittiva qui disegnata in colore azzurro che incrocia la media mobile semplice a 10 periodi di colore nera, avvenuto nella giornata appena trascorsa. Oltre a questo pattern abbiamo la conferma dell'indicatore predittivo, il Predictive Index che mostra una tendenza rialzista nei prossimi due giorni qui indicata con il numero 1. Pertanto inseriremo un ordine di tipo limit in acquisto a livello di prezzo della chiusura della seduta appena conclusa, pari a 9,54 dollari. Oppure per chi utilizza il software e tende a migliorare l'entrata utilizzando gli strumenti predittivi, inseriamo l'ordine di acquisto a livello elaborato dall'indicatore Predictive Love che nel nostro caso è pari a 9,47 dollari. Abbiamo visto anche oggi la semplicità con cui possiamo trovare un potenziale trade e come poter operare in completa serenità e fiducia essendo supportate dagli indicatori predittivi. Vi auguro un buon trading e vi aspetto al prossimo video per analizzare un nuovo potenziale trade vincente grazie anche al potente software utilizzato. Vi auguro una buona giornata e buon trading profittevole.